come visto mi cara la gara di isabella in spagna e con che fila stai con tutto il lato e le valigie mettiamo solo una valigia qui accanto c'entra piano mi rovina la macchina no ma prego isa noi di scorrano le cose le sappiamo fare bene cioè così facendo non solo tu ti stai aiutando a portare quello ma è anche privato lui del bagaglio indi ora sta senza fare niente grazie andiamo i giapponesi vimpano i giapponesi vimpano i miei padri di lecce vivevano a roma poi ci siamo trasferiti di nome qua c'è in blanco bello verso i bordi tiratela tutta quanta e i bordi devono essere più per preciso perché iniziamo bene la giornata di domani belli freschi cazzuti profumati belli bello e ricordate di riposare io voglio dormire voglio rilassarmi perché domani per me è una giornata importante per noi per me è il senso che la vivo che mi batte il cuore a me mi fa qualcosa che vuole buoni perché buoni 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 i loro rimangono lì poi noi siamo alla presentazione poi andiamo a praggio Comunque io e la ISO dovremo comunque tornare dal brand per... per cambiarci, eh. E se a più ci scritto altro nome? ISO 330? Bravo. Ciao. Vero? Internazionale only. Oh, certo, da noi. Non è solito. Sono, sono. Vabbè, poi mettete che dove volete. Per la presentazione della Guida Michelin 2020 vi auguro una buona visione. Quattro continenti, trenta paesi. Da oltre un secolo la Guida Michelin è il riferimento della gastronomia di tutto il mondo. Tutti gli ispettori della Guida Michelin seguono cinque criteri. La qualità dei prodotti, la padronanza dello chef delle tecniche di cottura, l'armonia dei sapori, la personalità dello chef in cucina, la costanza nel tempo della qualità delle prodotti. La stella Michelin ha lo stesso valore a Parigi, a New York e a Tokyo. Un grande colpo, eh? Un grande colpo, eh? La bella cosa, ma più che la bella Puglia, anzi io spero che tutti gli altri seguono un po' lui, un po' me Lo facciamo con lui, ringa, vai, è global, noi non combattiamo tra di noi, ci combattiamo nel mondo Allora io faccio la mia cucina, lui fa la sua cucina, tutti vogliono, ma tu non sei pluriano, non sei felice, ognuno deve fare la tua Non dimentichiamoci Sabella Sabella sta a stare, non ne lavora più, ormai è modella, 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 modella Però è vero, questo è il messaggio importante, modella cazzuta, lo suona bene Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Che bello che noi tutti nel Sydney work presto, che noia qualcun'altro benefici per poi riportare tutto nella nostra casa e vincere allo scudetto, no? Ciao! 2010, lo migliore della gastronomia eravamo seduti accanto, io ero accanto a te io ero con me che vinci guerra ero chef di partita che vinci guerra e poi me ne andai da Martin Brasileghi poi sono tornato così anni sono morta per i tuoi amici non c'è, non c'è non c'è abbiamo un piatto no, grande ehi, a scorrano andiamo al piatto da scorrano piatto a scorrano? oh, fucking scorrano eh la prima cosa che bisogna fare è dimesticharsi conoscere i posti, muoversi bene la scatigna porta da lì a qui cosa porta da qui a qui e ripiazza tutto? ok, quindi io te e le due posti a qui no, salsa, salsa ok, va bene andiamo per esempio con della salsa di coniglio ci ricordo un po' quello che è il coniglio che si faceva giù da noi quindi in realtà stra cocco però poi insaporito con tutti gli aromi del coniglio e tirato con del vino che in realtà è un vino spunto quindi che quasi sembra cesso questo è un piatto e questo è l'altro questo è ricotta forte e torta e riccia di mare questo invece è una seppia nuda servita con salsa di coniglio e a costa ah, coniglio e sempre un riso bello grazie abbiamo fatto questa ricotta forte e cotta con ricci di mare buonissimo grazie grazie ciao, grazie a te ciao, grazie a te lisa lisa e questo? biaaaaaa biaaaa la prossima volta non glielo date ho già agitato di mio ciao allora abbiamo fatto un servizio della madonna ma lei ogni tanto cambia personalità ieri aveva fatto la romana e a volte e a volte fa la new york e poi invece la seppia la seppia che piace molto perché c'è la porba della seppia basta non ha l'X Factor Alla prossima puntata